ok eccoci di nuovo qua in una nuova partita di ori oggi ho voluto anticipare un po' la live perché ho problemi logistici e per cui capito no? ok allora noi eravamo arrivati praticamente che hanno sbloccato il doppio salto e dovevamo dare la caccia all'essere perché aveva rubato l'avena d'acqua allora fa vedere un po' esattamente lui però io volevo volevo tornare indietro volevo tornare indietro perché volevo tornare indietro no andiamo avanti che è meglio ora si può più sotto puttana qui qui è tosto allora qui come potrebbe essere vieni 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 sto morendo malissimo cavoli cavolicchio allora aspetta salviamo che sennò tutte le volte parte di nuovo animazione ok ok no 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 come avevo fatto prima prima ahia ahia avevo fatto così devo riuscire a fermarmi sopra all'orlo del precipizio e proprio al limite mi devo riuscire a fermare no no niente allora fa vedere se io invece di andare avanti tornassi indietro no non posso tornare indietro perché devo riuscire a fare tutto il giro all'incontrario perché volevo tornare vabbè intanto indietro ci torneremo allora allora nooo 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 è giusto è giusto il modo e e e e e grandissimo male che fatica però tutto di un colpo è stato stupendo ok allora possiamo andare avanti allora io direi tornare indietro e salvare anche se tanto e dopo il mostro si rigenera qui praticamente devo saltare e arrampicarmi dietro perché in teoria c'è la maniera di vedere più in là? no non penso no come devo fare? o no 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 i dorsali non servono a niente no ok mi vedo un po' perplesso si vede vero? come potrei fare? grandissimo ehi ma io sono un eroe no non ci arriverò mai nooo ho visto come andarci ho visto come andarci perfetto tra l'altro a fare quella cosa lì mi sono anche danneggiato e ho aperto il passaggio ho aperto il passaggio ho aperto il passaggio per poter andare là ah no ok siamo qui là in alto che cosa c'è là in alto? in quella zona d'ombra se io ci tornassi se io ci tornassi se io ci tornassi sarebbe il delirio non è vero? salviamo salviamo esatto ah ok siamo qui no no mi sono fatto malissimo però di lì non ci posso passare no evidentemente no evidentemente ancora non ci posso andare evidentemente no evidentemente non posso saltarci lì lo scopriremo nooo aspetta no magari c'è la possibilità ma non sono io che non sono capace eh no quasi grandissimo ah ho capito come si fa eh sono un grande grandissimo bravo top ok salviamo eh eh cosa sblocchiamo? posso sbloccare cose? no perchè richiedono tutti i due punti di vita che cos'è questo? caricata rapida respiro dell'acqua collegamento dell'anima salto triplo ah ah si vedo una cosa maledetto non registra spero anche non si senta ok 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 vai su ah è rimasto bloccato nooo non so anche niente come era a salvare qui paf 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 aia ah qui devo saltare nel tempo giusto aiaia 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 recuperiamo allora qui devo saltare lì poi devo saltare di là aiaia 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 dai nooo ok ok salva che cosa c'è di qua? eiii eiii hai visto? fatto occhio che occhio ori porta bontà e speranza nel suo cuore hai recuperato l'avena d'acqua questa antica gemma ti permetterà di entrare nell'albero Guinness ricorda l'elemento delle acque si trova in cima all'albero Guinness dobbiamo far tornare le acque scorrere e ritornare immediatamente ok partita salvata ottimo ah ok siamo qui perfetto allora qui io qui direi di completare questo 8 ah di qua non ci si va quindi bisogna andare per di qua maledettissimo maledettissimo però è lo stesso ragionamento di prima sono mortissimo madonna madonna veramente ok allora salviamo ma chi te l'ha detto? aiaia per me non è così che devo fare ok cos'è tutto con la gente? ma cos'è tutto quella gente? E la posso salvare E, no Ah, ok C'era obbligatorio venire di qua C'era il suo perché Ok Salviamo Ottimo Lo prendi? Perché ti sei buggato? Ok Ok Qui dobbiamo andare No Dobbiamo andare di sopra Dobbiamo andare lì dove c'è quella lumaca Maledetto Allora No Mi salviamo Come faccio ad andare lì? Così Top Ok E la Cos'è qui? Allora qui Mi dà l'impressione che io debba Cadere di sotto E fare il balzo della fede Però quello lo dovevo evitare malissimo Non l'avevo mica visto Ok Ah, ok Qui devo fare un numero Ok Salviamo Allora Qui Devo andarla in alto Io poi c'è anche un livello segreto Aia Perché è tornato quel ragno? La zona Farming Allora Ahia Sono morto Allora In caso sono due O ci devo tornare Quando ho il triplo salt Ma Scocciava Se ci fosse una maniera Di farlo prima Ok Salviamo So che non ci si può venire qui Ancora Ho questo sospetto Ma questo Tremendo sospetto No Qui ci vuole Il terzo Aiaia Ci vuole il triplo saldo Allora Detto ciò Noi torniamo Di sopra A destra Torniamo Di sopra A destra Andiamo Andiamo All'altare A meno A meno che Quello è nell'acqua Non mi ricordo più Non mi ricordo più Io volevo finire questo pezzo qui Secondo te ce la faccio A finirlo A finirlo Perfetto Allora Cos'è qui No In bruttissimo posto Aiaiaia Ah ma allora muori Che storia Qui Secondo me Non ci posso venire Solo perché Mi ci vuole il triplo saldo Adesso voglio provare Andare in alto E vedere cosa posso fare Senza morire ovviamente Che sto facendo Veramente schifo Qui ci posso andare Perfetto Non è potenziale Un po' l'attacco Non tolgo niente Ok Ah praticamente Stando nella fiamma blu Del salvataggio Mi si ricaricano I poteri Ok Ok Madonna Sì ciao Allora Forse questa qui È una zona Dove è il caso Non venire Aiaia Ah vedi perché No io non lo spacco Quindi Ci verrò Dall'altra parte Penso Io E poi comunque No perché Qui ci vuole il triplo saldo Perché lì in alto C'è qualcosa Che non Non riuscirei mai A prendere Normalmente Quindi sono Sono un po' fregato Adesso bene Aiaia 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 Ok Per fortuna Che è randomico L'apparizione dei nemici Eeeh Cazzo Ok 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 Allora Proviamo a vedere Se riusciamo Ad andare a raccogliere Qualcos'altro Ah ok Allora Risolviamo Di cosa c'è Ah di qua Non si torna indietro L'unica maniera Per tornare indietro Dal di qua E' aprire Quella porta La La 4 Io però sono Sono un cretino Non serve a niente Però Magari questo lo apro Ok Giusto per vedere un po' Il tempo Perché tanto Alla fine Allora Siamo qui Allora Qui com'è 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 La storia Già Ah Qui di sotto Giusto E' No vecchio, ok, di qua, lo facciamo sprofondare di sotto, perfetto, ormai questa zona qui è come le mie tasche, la conosco troppo bene, ci siamo venuti in mente tanti quelle volte che ormai sarebbe stato difficile non comprendere il tutto, salviamo, lì è chiuso, ok, bene, no, non ce le ho, no, 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 ce le ho, ma niente, e quindi come facciamo? Così sono bloccato, cazzo, che palle, tocca fare il giro lungo, speravo di poter evitare questa brutta cosa, per fare il giro lungo, a meno che non ci sia un tempio qui da qualche parte, eh no, perfetto, abbiamo risolto il problema, top, ok, abbiamo risolto anche abbastanza velocemente, perfetto, eh no, 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 mi freghi mica Johnny, no, che sfiga, mi sono buggato, no, però non penso fosse, fosse, fosse fatto utile, no, respone, ok, no, muoio, 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 Che cos'era? Autodistruzione, colpo devastante, bloccato due arcivment una volta sola, senza volerlo, mamma mia, ne vuole quattro, quindi adesso salvo, perfetto. Allora, adesso qui salviamo, ottimo, perfetto, allora, fa vedere qui come siamo messi, adesso qui salviamo, a costo di finire le sfere, ahhh, facciamo la scienza triplo, aia, scienza triplo shout, ma non c'è le uniche, mi scia, Eh si è, ok, siamo tornati all'inizio, ottimo, allora, là in alto, vediamo se riusciamo ad andarci, senza problemi, adesso che abbiamo un doppio saldo, Figurati Figurati se non mi dovevano disturbare Ah, non ci sono, no, no, dai, muori malissimo, grazie 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 no non ci si arriva probabilmente ci si dovrà arrivare più avanti la mia è una speranza molto grande mi sarei risparmiato un po' di strada qui cosa c'è? ah là in alto qui devo scendere ok allora là in alto non ci siamo mai stati eh 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 mio 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 assolutamente che cos'è? ah sì? no però devo salvare assolutamente ottimo otto vite io non ci posso andare eh no no forse sì nooo c'è troppo poco spazio speravo di poterci arrivare ma col triplo salto dovrebbe essere più immediato adesso non ce l'ho più adesso non ce l'ho più eh ciao ah perché ritornano sti stronzio dopo un po' no dai ti prego fammi arrivare in alto troppo poco slancio c'è ero spaventato c'era un ragno che scendeva dal monte no troppo poco slancio allora niente andiamo avanti poi qua dovremo un po' di di energie blu se non sarò di salito di livello prima torneremo indietro ok ah sto facendo un gioco che è molto pericoloso andare avanti e indietro così senza salvare è molto molto pericoloso molto molto pericolizz ok grande top e salviamo ah ok perfetto ah no vedi che però c'era la bestia in camera ok l'è in alto non mi ricordo però la a destra si allora ho due abilità due abilità posso sbloccare questa che è un collegamento dell'anima ripristina due cellule vitale va bene non so cosa serva però lo scopriremo solo vivendo ok ah no qui cosa c'è ah qui c'è una strada secondo me mi conviene salvare sbaglierò ah siamo qui ok va bene allora in teoria la strada mi dice che io dovrei andare di là però io invece voglio farne un'altra ovvero io tornerò indietro dal di là io tornerò indietro dal di là in teoria a quest'ora dovrei essere già arrivato a destinazione allora noi scendiamo di qua eh no più in basso ok perfetto ehi ehi mi ha preso ok perfetto allora se di qua non ci riesco di qua ci riesco a salire no non penso e quindi la secondo me ci vado in un altro momento mi sbaglierò ah no dobbiamo andare ad attivare quella mappa dove è già quella mappa da attivare quella là esatto quella là perché quella lì giù era già attiva giusto sì perché non ti fa vedere quelle che sono attivate e quelle no oh sì quella c'ha una orla strana no non te la fa vedere no non te la segna non te la segna torniamo indietro che fatica che palle sempre davanti indietro avanti indietro ok salviamo e andiamo super di qua ok super di qua eh la c'è un tempio e volevo aprire una porta ok se ci riesco ad arrivare ok balle del vento mamma mia se sono forti no sono io che sono scarso nella valle del vento ah qui me l'hanno aperta ok ok io direi che la valle del vento direi di fermarci intanto abbiamo aperto la strada che è tutto dire salviamo da ci salviamo da quei nemici andiamo avanti a raccogliere cose lasciate indietro a raccogliere cose ok 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 e qui c'era qualcosa da raccogliere no 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 qui c'era qualcosa da raccogliere devo tornare indietro devo tornare indietro perché qui c'era qualcosa da raccogliere c'era un... non mi ricordo se era una vita o se era... non si chiama una sfera delle abilità non mi ricordo era qui c'è che non mi ricordo più dove era dove era non mi ricordo più dove era secondo me non mi ricordo più no non mi ricordo più non mi ricordo più non mi ricordo più era fuori era fuori non mi ricordo più dove era adesso noi facciamo la strada ritorosa allora lì ce n'è uno ma non so come arrivarci ci deve essere qui ci deve essere una strada nascosta da qualche parte qui e vabbè quello lo scopriremo no no lì non so come arrivarci eeehm no più che altro aiaia mi sembrava fosse qui ma mi sbaglio eh ovviamente perché o se no allora noi possiamo provare a vedere una cosa andarla di sotto senza morire possibilmente troppa gente qui per andare a prendere quello là aia aiaia almeno cazzo dasci abbastanza abbastanza punti esatto no secondo me quello non lo prendi lo prendi solo quando c'è il triplo saldo no allora la mia speranza è che è molto molto ben grande si quello lo prendi solo se c'è il triplo saldo il salvataggio dov'è è là penso che è un casino morire ok eeeh bene niente passiamo per di là non mi ricordo più dov'è quel quell'oggetto da prendere diciamo che forse in una zona dei ragni ma non mi ricordo c'era la la palla gialla non mi ricordo potrebbe essere lì dove dobbiamo andare adesso ok aiaia no mi dici mi dici proprio che non ci posso andare non ci posso andare evidentemente per il momento ah do sbloccare quella porta per poterci andare adesso qui eeeh grandissimo ok allora fa vedere top c'è l'abilità la finché non sblocco il triplo salto non ci arriverò mai allora lì non c'è niente qui devo scendere devo scendere brutalmente a meno che non riesco a fare un no un triplo salto un triplo salto carpiato no non serve a niente basta scendere tranquillo esatto ok ottimo ne ho rimasti tre però la mi devo ricordare vabbè che non è esplorato allora qui sotto c'è qualcosa e ci posso arrivare solo fra un po' ah fate un attimo ah grandissimo fra un po' possiamo andare sott'acqua ottimo salviamo perfetto ottimo quindi allenati immagino che senza cose senza una qualche abilità non ci posso arrivare ok qua sotto cosa c'è ah c'è questo che non posso sfondare ok ok lì c'è una zona nascosta che ci arrivi dal di là sicuro ohioio ah era qui guarda ah maybe maybe no perché mamma mia no niente triplo salto anche lì non c'è niente da fare qui c'era ah qui c'è una mappa una volta oh finalmente tutta quella bella parte lì eh già eh già mmm quel simbolo là non mi piace potremmo andare a vedere però in alto prima di andare lì mmm vabbè adesso continuiamo ad esplorare qui ok ok salviamo grandissimo quindi non c'era bisogno di niente ma solo di tanto culo ok che cosa c'è lì di sotto ah ok perfetto ah là in alto siamo qui ok perfetto top quella di sotto non ci si può andare perché non posso romperlo va bene e ok andiamo avanti salviamo andiamo avanti allora noi dove siamo guardate cosa c'è qui guardate cosa c'è qui e qui come ci arriva vai ci si arriva stendendo questi strans ma guardate eh no devo scendere ahia mi ha preso hai detto la frustrazione bene bene l'on l'on palude spinosa palude spinosa qui si deve essere qualcosa ho fatto anche la rima ah qui c'era questo ma non potevo andare avanti perché non non avevo abbastanza non potevo far esplodere sta roba qui ok giusto quindi devo andare di sopra e passare di là ahia ah cazzo prima però non ero riuscito a non farmi beccare ok cazzo ottimo ok allora in alto grande e no facciamo una cosa andiamo da di qua e il grandissimo 9 top qui abbiamo preso tutto qui in alto non c'è niente giusto no salviamo perfetto e qui di sotto non c'è niente non c'è niente non c'è che non ci sia niente non ci credo ok che cos'è che cos'è ah giusto perché non riesco a sfondare il col ok ho la memoria che fa veramente schifo qui non posso aprire quindi là non ci posso andare ok bene siamo arrivati ok dopo lunghe per i pezzi siamo riusciti a riportare l'avena d'acqua all'albero gismo no all'albero ghinzo non mi ricordo più all'albero ghinzo un tempo le acque di nibel scorrevano proprio attraverso questo albero ora è marzo e è rinsecchito dobbiamo ripristinare il flusso e trovare il cuore dell'albero ghinzo ok quindi immagino che siamo obbligati a passare di qua oh no oh cosa vengo io ok scusate allora ok mamma mia tutto così sto arrivando ok allora così sono scomodo bene la c'è qualcosa per me si ehi la eh a parte che è uno scherzo perché c'è la mappa quindi non ti puoi sbagliare non puoi fare neanche il fenomeno salviamo ok ok questo è un po' un rompicapo secondo me no 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 credo ho capito cazzo allora qui è un bel casino posso salvare qui no io non posso salvare allora qua salviamo là però c'è qualcosa ah ottimo bam grandissimo salviamo top andiamo mamma mia quante spine io sto rischiando forte a giocare senza salvare velocemente allora per andare là non ti riesce io faccio così no torni indietro torni indietro che là sicuramente sono segreto cos'ha perchè sono qui ah per cadere giù ah ok torni indietro oppure ti manda qui solo ed esclusivamente per morire male no maledetto ok mamma mia no 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 mamma mia l'hanno preso non mi ricordo più ci si porca paletta sì devo salvare allora una volta che cado lì devo cadere di sotto ah porca boia quindi tac 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 madonna che bordello dove sono? ah sono qui quindi qui cado qui perfetto bam ok quindi in teoria dopo passa e rompe quell'altro giusto? no ah ok però adesso sono in pericolo un po' eh? no non va bene cioè? non ho capito no non ho capito forse spero no eh no ma sono un uno stupido eila mamma mia che eroe aspetta che lasciamo che caschi l'ultimo ok via che qui è pericoloso pam mamma ok perfetto salviamo e qui c'è un boss no che bastardo appare random no vabbè finché non mi appare sotto sotto il culo va bene ci fa anche abbastanza bene niente di che vabbè l'anno non riesco a prendere ma non è difficile cioè magari in alcuni punti devi stare un po' più lì a ragionare perché è verità dove sono? sono qui però dai non è non è questa difficoltà esagerata allora è un po' da capire ma non è che c'è tutta questa impossibilità ok qui ci vogliono quattro chiavi il livello è tutto così? che bordello allora qui salviamo in teoria lì lì cade lì lì cade là allora qui allora sì io cado qui giù a basso a sinistra lui cade qui sotto no ho sbagliato strada ah madonna ma che casino che è eh ma che casino che è la bocca ce l'abbiamo fatta ma ha metto un bordello ok chi c'è stavolta sento urla di sgomento nelle profondità di questo albero ancestrale rim era agile scattava nell'aria ascolta la sua voce e la saggezza e la saggezza che condivide ah questo mi fa volare nell'aria lo scatto diventiamo sempre più ninja ha imparato il colpo usa questa abilità per per usare questa abilità ti hai premuto Y nella vicinanza delle lanterne o dei proiettili nemici poi prendi la mira nella direzione in cui vuoi effettuare un busto i proiettili verranno indirizzati nella parte opposta ma che palle ah praticamente dai dai in capriola ah figata no si ciao me ne dimenticherò subito l'importanza ah figata ma è uno spettacolo adesso muoio malissimo ah mi serve per scattare mi serve per mi serve per superare i muri ok 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 no è in alto quindi no non capisco come faccio a poter aprire a poter aprire ah ok che è un bordello Ma come faccio? È un casino Ah no Ah giusto Infatti mi stavo dimenticando di questo particolare Ok Oh è un casino Giuro è un casino veramente Sì, però è cazzo così. Ok. Saldiamo. Mamma mia, se tolgo. Saldiamo. 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 No Quasi 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 No Mi becca no Ehi là Oh Mamma mia Che fatica Proprio la combinazione che devo fare dopo Merda Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cos'è? Aiaia. No. Ah, qui sono sempre dietro a saltare. Ma che bordello che è? Ma perché è stato il boss più noce di questo mondo? No. Il cuore dell'albero ghinzo un tempo conservava sicuro l'elemento delle acque, ma ora è corrotto. Marcio e putrefatto. Dobbiamo aiutarlo. Curarlo e salvarlo dal degrado. Eliminando i disegni di corruzione su entrambi i lati. Allora, fa vedere. Qui mi sono giocato un pezzo. Ah, una fontana. Maledetto io quella volta che... Allora. Ho salvato? Sì, ho salvato. Dove andiamo? Penso che c'è indifferente. Tanto dobbiamo andare ovunque. In tutti i due punti dobbiamo andare... Allora, io penso che lui c'è da ammazzare. Bellissimo. I direi... Ofo? Ho. ma perchè? mi sto perdendo troppe cose da fare adesso con tutti sti poteri non capisce niente ok salviamo perfetto top troppa roba troppa gente troppa gente troppa gente nooo non capisce niente no 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 capisce niente veramente è una roba stratosferica salviamo almeno per recuperare un po' di energia no no non capisce niente che non capisce niente non capisce niente no capisce niente quindi ok dovremmo aver fatto penso sì anche perché lui stava lì solo per darmi la palla per tirare giù il muro quindi non penso ci sia altro da prendere qui esatto se non che morire andiamo ok perfetto top salviamo anche qui non si può studiare niente no quello non si può utilizzare però secondo me se noi lo ammazziamo un po la svelta quella lumacca lì potrebbe aiutare potrebbe aiutare anche che non prepara ok bene troviamo ok a porca puttana sì ciao fanculo merda per poi arrivare qui cazzo ah qui la vedo molto dura molto dura la vedo qui allora io direi di salvare qui anche se è un brutto posto no merda ma porca di quella puttana no è un casino è un casino perché le lumacca ci rigenerano ok 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 mamma mia ehi grandissimo allora che mi ha liberato salviamo voglio vedere una cosa no no la in alto mi scegna qualcosa ma ma cazzo no no ma 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 ok ok guarda lì no niente è in alto dove facciamo arrivarci è in alto è in alto la vedo dura allora aspetta un attimo prossimo giro voglio vedere una cosa ora ora possiamo ripristinare l'elemento delle acque una volta riavvivato questo elemento ne rimangono altri due sbam e via tutte le corruzioni partito salvat merda nooo non avevo mica capito che me la devo svignare più veloce della luce nooo cazzo ma è un bordello ah no 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 dai niente niente mi tocca abbandonarlo lì ah non è essenziale penso ah che palle dai di ah non è mi slancio con il ragno mi devo slanciare verso il coso Con Ranocchi mi dovevo slanciare verso il ragno Ma che palle Quindi ce la fai o no? Dai Vaffanculo Avevo guadagnato un punto abilità Dai Dai Cazzo Non capisco perché Ah qui no Non ce la faccio Io non so come devo fare No 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 non ci credo Mi stemmiato un coglione Ma porca figa Ah che palle Oh Devo restare la finché posso Nooo Fanculo Eh va là Fanculo due volte Ma puttana Quando fa l'abilità Non la prende Non la prende D'accordo Non la prende Questa Ma per la parte Ma per la parte Ma per la parte Ma per la parte Ah, è qui No Tanna boia Tanna boia Tanna boia Tanna boia Lascio tutto ad un fiato Che bordello Che bordello Quindi finito Quelle bestie lì C'è da saltare Sì vabbè ma Non è difficile Bisogna avere Pazienza E E occhio Cioè non lo fai mai il livello Dai va Dai vieni su No Dai No 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 Vabbè ma Vaffanculo Ma fammi un checkpoint Bastardo Maledetto La mia presunzione è di voler prendere tutto Cazzo Ma porca puttana Boia E' qui che Ti frega Dei punti E' qui che ti frega Dei punti Ah una volta che l'ho preso Mi devo lanciare nel vuoto Perchè ho fatto Coggi Mamma mia Dai 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 E' qui che Fanculo No Devo sfruttare quell'ultimo ragno Mamma mia Ero riuscito a prendermi due su tre Dai avanti Vieni avanti No 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 Maledetto te E maledetto me Che zocco d'ori Fanculo Dai vabbè fanculo Guardala che l'aveva sparato Porca puttana Troia Tutto per il fatto Che voglio prendere Le puntabilità Mica tanto perché Mica tanto perché Voglio fare il forte Vaffanculo Un cazzo Dai vieni avanti Cosa aspetti Eh cosa aspetti Brutto briacone Vai in su o no 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 Porca boia Dai vieni 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 E che si veloci Un casino No 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 Ah ma allora C'è solo fai posta Oh Fra un po' mi sono Ticcazzo Dai vieni avanti Non c'è solo Ma non c'è mai No No Puttana galera Che sfiga No 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 Cazzo Ero quasi fuori Merda Dai 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 Che palle Ah puttana mi sono perso Ho avuto un attimo di labirintita Cazzo Deve arrivare la bolla Invece no Merda 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 Mi perdo sempre Honda Dai Né Dai 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 colour No Che peste Che bordello No 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 io direi di fermarci qua Riprenderemo domani Perché Sono troppo Incazzato E troppo Teso per Poterci riuscire Anche se so che Mancherebbe poco Quindi Niente Ado Ado